Salve e benvenuti. Salve e benvenuti a Salute senza età, un nuovo appuntamento di ETV interamente dedicato ai temi della salute, del benessere, ai temi sociali e a quelli della sanità. L'idea è nata dalla voglia di tradurre televisivamente un'esperienza lunga 15 anni. L'esperienza è quella della rivista Senza Età, ve ne mostro alcune copertine, che ormai appunto da 15 anni affronta i temi della salute, della sanità e quelli della famiglia moderna, con interlocutori istituzionali, ma anche nel mondo dei professionisti, della sanità, del mondo della cultura e dello spettacolo. Lo fa grazie anche alla direzione scientifica del professor Paolo Crepe, psichiatra e sociologo e scrittore italiano, che incontreremo proprio alla fine di questa puntata, lo vedrete. Intanto passo a presentarvi il tema con cui iniziamo questo percorso e gli ospiti che ci aiuteranno ad indagarlo. Il tema è quello della longevità. Vi leggo qualche dato. In Europa, secondo gli ultimi appunto i dati recenti, dicono l'Italia investe meno in sanità, ma di contro viviamo di più e viviamo meglio. Soprattutto gli over 60, ormai da noi sono arrivati a quasi il 30%, il 28%, si stima che nel 2050 saranno il 40%. L'aspettativa di vite arrivata a 85 anni, la conquista quindi è quella della longevità, ma la sfida è ben più grande, quella di una longevità positiva, di una buona longevità. Abbiamo come ospiti studio, a parlarci di questo, la dottoressa Fabrizia Lattanzio, direttore scientifico dell'IRCA, Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani a Carattere Scientifico, l'unico IRCS, lo ricordiamo, ad occuparsi di geratia in Italia, e il dottor Brizzioli, Enrico Brizzioli, amministratore delegato del gruppo Santo Stefano, leader nella riabilitazione e nei progetti di prevenzione e di assistenza. Io inizierei dalla dottoressa Lattanzio, anche per motivi di galanteria femminile. Le chiederei, dottoressa, l'IRCA, lo sappiamo tutti, non è solo un istituto di riposo e di cura per gli anziani, ma ha un carattere scientifico, di ricerca scientifica. Quali sono le ultime novità, dottoressa, nel campo scientifico dell'IRCA? Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Quando parliamo di longevità e quando parliamo, insomma, dei temi che vengono più di tutti affrontati dalla comunità scientifica, oggi ci si riferisce prevalentemente a due filoni. Uno è quello dello studio dei meccanismi biologici che riguardano l'invecchiamento, quindi gli aspetti genetici. E faccio un esempio, se ci poniamo sempre questa domanda, se abbiamo un genitore, un nonno che è stato longevo in famiglia, anche noi lo saremmo? E allora la risposta è per un 30-40% legata agli aspetti genetici, mentre per il resto è tutto legato allo stile di vita e allo stato di salute e all'ambiente. Per cui oggi, quando si cerca dal punto di vista scientifico di studiare la longevità, ci si focalizza prevalentemente su questi due aspetti. Uno, capire sempre di più la componente genetica, come interviene, e questo si fa prevalentemente studiando i centenari. E ricordiamo che dall'ultimo censimento del 2011, in Italia è aumentato tanto il numero dei centenari. Per esempio, nelle Marche oggi sono più di 400, i soggetti che hanno più di 100 anni. Dall'altra parte, invece, cerchiamo di lavorare sullo stile di vita, e quindi sui due elementi fondamentali, che sono l'attività fisica, quindi la capacità di muoversi bene, avere una sana alimentazione, e poi anche avere una mente sempre attiva, essere sempre coinvolti in una serie di attività, in modo tale da avere sempre un coinvolgimento. E l'ultima copertina del Times, infatti, mette un bambino e dice probabilmente questo bambino oggi ha la possibilità di vivere fino a 142 anni, mentre ad oggi noi in realtà conosciamo una vita fino ai 120 anni. E quindi è una sfida molto, molto interessante, quella di studiare l'invecchiamento e tutto ciò che c'è intorno. Grazie, dottoressa. Dottor Brizzioli, la longevità, abbiamo parlato di buona longevità e anche di buona qualità della vita. Questo passa, lo sappiamo tutti, anche per dei servizi di prevenzione e dei servizi riabilitativi adeguati. Qual è l'ultima frontiera? Quali sono le ultime frontiere in questo senso che può illustrarci su questi fronti? Nel campo della prevenzione, la prevenzione precoce, soprattutto dei tumori e delle complicanze delle malattie cardiovascolari, è un aspetto determinante. Lo stile di vita, come ricordava l'autoressa Lattanzio, è fondamentale per ridurre fattori di rischio. Ma non riusciamo comunque a eliminarli completamente e quindi una diagnosi precoce, la prevenzione, affrontare la malattia quando ancora non ha determinato effetti devastanti o una grave disabilità, rappresenta un elemento fondamentale. Ed in questo lo sviluppo della diagnostica, di controlli periodici, check-up, attività che vanno promosse nel territorio sono fondamentali per questo fine. E ovviamente poi la riabilitazione. Purtroppo la malattia non l'abbiamo sconfitta, non del tutto. Ci sono episodi di malattia che rischiano di rendere le persone, soprattutto anziane, disabili per il resto della loro vita. Una buona riabilitazione serve a prevenire e risolvere problemi di questo tipo, a restituire la persona alla sua vita quotidiana nelle migliori condizioni di autonomia. È naturale che questo va fatto in maniera professionale e noi cerchiamo di farlo garantendo dei percorsi assistenziali ai pazienti che siano appropriati alle proprie esigenze, anche se troppo spesso ancora vediamo che questi percorsi non sempre sono garantiti e non sempre vengono assicurati i percorsi di prevenzione da un lato e garantiti i percorsi di riabilitazione appropriati alle persone che sono andate in ospedale, che hanno avuto una patologia potenzialmente invalidante e che hanno invece diritto di avere un percorso che gli consenta di recuperare la loro propria vita quotidiana nelle migliori condizioni possibili. Sentite, c'è una rete nazionale che si occupa in qualche modo di invecchiamento e di longevità attiva con degli obiettivi precisi, si chiama Italia Longeva. L'IRCA, dottoressa Lattanzio, è uno dei fondatori di questa rete. Quali sono i progetti futuri e cosa si sta facendo con questa rete? Italia Longeva è una rete di centri che lavorano sull'invecchiamento ed ha come soci fondatori il Ministero della Salute, la Regione Marche e l'IRCA. Tra i temi ci sono quelli che abbiamo appena affrontato io e il dottor Brizzioli in questa breve chiacchierata, probabilmente perché entrambi siamo parte del board scientifico per cui stiamo lavorando su diverse aree. Una di queste, per esempio parlando proprio della qualità dei servizi, è cercare di trovare una modalità per dare un certificato di qualità alle strutture residenziali in cui vengono assistiti i soggetti anziani in maniera tale da andare a vedere se la qualità del servizio che viene offerto è buona, praticamente se vengono rispettate una serie di parametri sia in termini proprio dell'assistenza al paziente, sia dal punto di vista strutturale e dal punto di vista dell'organizzazione del personale. Uno potrebbe essere questo, poi ci sono altri temi tipo l'utilizzo della tecnologia nell'anziano piuttosto che la gestione del dolore o la rendere più facile l'accesso a determinate terapie, a determinate approcci di prevenzione. A proposito di accesso, anche di ampliamento nella possibilità di curarsi, di ricevere appunto prestazioni, sappiamo che abbiamo sentito tutti parlare ultimamente dei LEA, i livelli essenziali di assistenza. Il nostro ministro Lorenzino ha portato a casa proprio all'inizio dell'anno un grande risultato, la revisione dei LEA, ormai si aspettava questa revisione da più di dieci anni. Io le chiedo, dottor Brizzioli, innanzitutto di spiegare anche a chi ci guarda cosa rappresentano questi LEA, questi livelli essenziali e quanto questa revisione incide effettivamente sulla popolazione, sulle persone? I livelli essenziali di assistenza sono le prestazioni che devono essere garantite a tutti i cittadini italiani in tutto il territorio nazionale, al di là della competenza regionale di gestione della sanità che la Costituzione affida alle regioni stesse. Sono quindi una specie di carta dei diritti generale che è stata emanata per la prima volta in modo formale in Italia nel 2001 e che andava aggiornata. Questo lavoro di aggiornamento è stato fatto da una commissione, la commissione LEA, di cui ho partecipato, ho coordinato in particolare il gruppo delle prestazioni sociosanitarie e quindi quelle residenziali e domiciliari e il nuovo decreto LEA contiene dei documenti, una parte veramente, dei aspetti veramente innovativi su questo fronte. sono finalmente classificate tutte le prestazioni domiciliari individuando quelle a maggior complessità, che sono poi quelle importanti, quelle che cambiano la qualità della vita e la storia di una persona che vive a domicilio, fino alle cure palliative, fino alla possibilità di una vera spedalizzazione domiciliare che viene quindi garantita all'interno di questo pacchetto di prestazioni che deve fornire il servizio unitario nazionale. L'altro importantissimo capitolo, a mio avviso, è quello della residenzialità. Sono individuati diversi livelli di residenzialità con aree di specializzazione. È individuato per la prima volta il nucleo Alzheimer come struttura residenziale specializzata per la gestione e l'assistenza di pazienti con malattie di Alzheimer nella fase centrale, che è la fase di maggior complessità in cui il paziente è irrequieto, aggressivo, non collabora con chi gli eroga assistenza e quindi va inserito all'interno di un percorso che ne tuteli la sicurezza e consenta agli operatori di indirizzare i suoi comportamenti verso delle attività produttive. Tutto questo significa maggior professionalità, maggior competenza e maggior qualità dell'assistenza anche per i pazienti. Sono definiti poi dei livelli di garanzia importanti, ad esempio che tutti i pazienti che hanno necessità di cure continuative per il mantenimento delle funzioni vitali, quindi pazienti con gravissime disabilità nella respirazione, che hanno bisogno di ventilazione assistita, come i pazienti con la SLAO, le gravi broncopatie cronico-ostruttive, ma anche i pazienti in stato visitativo, in coma, hanno diritto, quando non possono stare nel loro domicilio, di essere assistiti all'interno di strutture residenziali con oneri a tutare carico del servizio interno nazionale. E questa è un'importante vittoria condotta dalle associazioni dei familiari che si sono battute a lungo per questo, insieme all'ampliamento della protesica che viene fornita con il nuovo decreto con una gamma molto più vasta e anche su apparecchiature elettroniche e tecnologiche avanzate. Io la interrompo un attimo, interrompo la chiacchierata perché abbiamo pensato di inserire in questo appuntamento una rubrica dedicata alle good news, quindi alle buone notizie della sanità, perché pensiamo che ci sia bisogno in qualche modo anche di buone notizie sulla salute. Inizierei proprio dalla longevità. Una notizia dell'ANSA, non solo declino, ecco superanziani con memoria di ferro. La ricerca svela la chiave della superiorità mentale di alcuni ottantenni. Quindi ci dice il TEC d'agenzia, non per tutti l'invecchiamento è sinonimo di declino fisico e cognitivo, esiste una categoria di superanziani, persone il cui cervello sembra rimanere giovane nonostante l'avanzare dell'età, tanto che a 80 anni hanno le capacità cerebrali dei 50-60 anni in fatto di memoria episodica. Quindi se però non siamo, ecco, tra i fortunati che hanno questa caratteristica, ci dice il TEC che tutto possa dipendere da una corteccia cerebrale più spessa, un numero significativamente minore di grovigli neurofibrillari e una maggiore presenza di uno specifico neurone legato a una maggiore intelligenza sociale. Beh, se non siamo così fortunati da essere tra i superanziani, ci dice sempre l'ANSA, una corsetta lenta tre volte a settimana è il segreto della longevità. Dannosi invece sia la sedentarietà che gli sforzi intensi, quindi gli opposti no, ma ecco l'attività, come dicevamo poc'anzi con la dottoressa Lattanzio, l'attività fisica è sicuramente una delle chiavi di volta di questa longevità attiva. Dottoressa, l'IRCA si occupa anche di una chiave, se vogliamo, del sistema sanitario, di un sistema sanitario sostenibile, lo ha detto lei stessa più volte, l'innovazione tecnologica, vera chiave, lei ha detto, per un sistema veramente universale, un sistema sanitario universale. Quali sono le novità in questo campo? Uno dei fenomeni che ha determinato l'invecchiamento della popolazione, quindi questo cambio dal punto di vista demografico della popolazione dei paesi più industrializzati è stato legato proprio a un certo tipo di tecnologia. Sia tecnologia inteso come farmaci che ci hanno permesso di curare meglio le malattie infettive nel secolo scorso, ma anche tecnologie che ci permettono o di fare una diagnosi più precoce, oppure di fare dei trattamenti meno invasivi. E questo è quello che stiamo cercando di fare oggi all'IRCA, perché proprio questa componente di istituto a carattere scientifico ci permette di confrontarci con altre realtà in Europa e nel mondo e di accedere a dei finanziamenti per avere delle macchine sempre più innovative. Ed una di quelle che stiamo per introdurre è quella che ci permetterà di fare un trattamento, ci permetterà quindi insomma per i telespettatori a dove bisogna ancora aspettare un po' perché siamo in fase di acquisto, per esempio una macchina che ci permetterà di fare delle terapie tumorali senza fare il classico intervento chirurgico, ma utilizzando degli ultrasuoni. Questo è un esempio, ma poi ce ne sono tante altre perché la tecnologia è parte integrante del progresso, assolutamente. Dottor Brizzioli, di innovazione tecnologica parla anche il gruppo Santo Stefano. Ci fa qualche esempio anche lei di quella che è veramente questa innovazione in sanità che fortunatamente ecco anche in Italia sembra prender piede. Ma guardi, la tecnologia è sicuramente uno dei nuovi orizzonti della sanità. Noi stiamo lavorando in termini pratici, da poco operativo presso le nostre strutture sia di Porto Potenza che di Villa Adria, alcune apparecchiature di robotica innovativa per la riabilitazione, in particolare l'esoscheletro Exo, che è una macchina che consente alle persone con paralisi e gli arti inferiore di tornare a camminare, anche se per brevi periodi durante l'esercizio, ma stare in stazione retta e riuscire a deambolare. Sono apparecchiature derivate dall'industria bellica, molto complesse, articolate, ma devo dire di utilizzo ormai per noi molto facile, molto semplice. Tutti i giorni abbiamo pazienti che stanno sperimentando questo nuovo modello di terapia. Stiamo lavorando con la telemedicina, con sistemi di controllo remoto, sia di trasmissioni di immagini che di controllo remoto di alcune situazioni per pazienti in stato vegetativo, pazienti con gravi insufficienze respiratorie. E da ultimo un progetto molto importante che proprio in collaborazione con l'IRCA, sulla base di un finanziamento della regione gestito e vecolato dall'IRCA, stiamo realizzando una casa intelligente completa di tutte le apparecchiature innovative che oggi consentono di portare la domotica a servizio della disabilità e della non autosufficienza, una casa intelligente che completata inaugureremo a questo punto subito dopo Pasqua, credo, ma è già pronta nelle sue linee fondamentali, che consentirà una vita indipendente a pazienti con grave disabilità con un controllo remoto e con la possibilità di gestire apparecchiature anche teoricamente complicate, ma che cerchiamo di rendere semplici attraverso l'utilizzo di interfacce amichevoli che consentono alle persone di utilizzare le nuove e più avanzate frontiere della conoscenza umane. Grazie dottor Brizzioli, intanto torneremo sicuramente sull'argomento, è molto ampio, ma intanto abbiamo visto che praticamente è un argomento che tocca le nostre vite, quelle dei nostri familiari tutti i giorni nella quotidianità. Ringrazio intanto della chiacchierata i nostri ospiti, la dottoressa Fabrizia Lattanzio, direttore scientifico dell'IRCA, il dottore Enrico Brizzioli, amministratore delegato del gruppo Santo Stefano, ci rivedremo sicuramente. Intanto vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione anche a voi telespettatori che ci avete seguito, ma vi lascio come preannunciato con una chiacchierata interessante con il professor Paolo Crepe, anche lui ci parlerà di longevità, dirà che oltre le cure, i servizi, l'assistenza c'è bisogno di un cambio culturale, una sfida. Vi lasciamo alla chiacchierata, insomma nel suo salotto di Roma, lo ha incontrato per noi Valentina Muzzi. Grazie di averci seguito e arrivederci. Molti studi di ricerca scientifica affermano che il segreto della longevità è nella memoria, quindi nel cervello giovane. Il cervello bisogna nutrirlo come tutte le parti del nostro organismo, quindi è evidente che se c'è una dieta che non è povera, come per secoli è stata, è chiaro che anche il cervello ha una sua maggiore probabilità di mantenersi in funzione per più anni. Ci sono più stimoli oggi, questa è un'altra parte fondamentale per il cervello, perché il cervello reagisce agli stimoli che sono le luci, che sono il pensiero, la parte cognitiva. In una società come la nostra, che è una società dell'invecchiamento, dobbiamo anche capire cos'è che possiamo fare per far sì che anche le capacità, l'esperienza delle persone anziane non si è buttata via, sono persone che hanno una grande memoria e che se la possono raccontare, così dette storytelling. Questa è una grande capacità di autoterapia per la persona anziana, perché si sente utile, si sente richiesta, si sente ascoltata e quindi è un elemento molto utile dal punto di vista terapeutico. Penso per esempio, con una certa preoccupazione, il fatto che nelle nostre città i luoghi sociali per gli anziani sono sempre più rari e questo è un controsenso visto che ci sono sempre più anziani. C'era molto più per l'anziano quando gli anziani erano pochi che adesso che gli anziani ce n'è di più e contano di più, sono di più, contano di più, hanno anche più strumenti economici, però poi le città, il tessuto sociale in qualche modo sembra quasi non volerli o non volerli che appaiano. Professore, ci dedica un messaggio di auguri per la partenza di questa nuova trasmissione sulla salute? Ogni trasmissione sulla salute credo che siano cose anche un po' le cose che la gente cerca di più. Ci sono tanti aspetti, l'innovazione tecnologica, farmaci, nuovi farmaci, nuove terapie, quindi tanti auguri a voi e a tutti quelli che vi seguono. Grazie a tutti. Grazie a tutti.